Come ogni venerdì parlo dei vostri videogiochi Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ogni venerdì parlo della serie i vostri videogiochi Quindi proprio le vostre creazioni Realizzate in Unity, Unreal Engine, Construct, Game Maker Qualsiasi engine E ricordo tutte quelle persone che mi hanno mandato un videogioco Di attendere Contattatemi in privato per sapere se quel gioco è stato ad esempio eliminato Messo da parte o se è avuto problemi Contattatemi privatamente su Discord, Instagram, Facebook Cercherò di controllare tutti i messaggi E per quelle persone che non mi hanno ancora mandato un videogioco Vi invito di mandarmelo cliccando sul link che trovate in descrizione Ovvero direttamente sul sito svilupparegiochi.it Trovate la sezione in alto invia il tuo gioco Ti basta compilare tutto il form E mi arriverà direttamente su Google Drive il vostro videogioco da provare Oggi ragazzi proviamo uno dei vostri videogiochi Quindi non vedo l'ora di provarlo e dare i miei feedback Postiamo subito in quadratura e proviamo il videogioco di oggi Eccoci qui all'interno della scheda prodotto del videogioco di oggi Ovvero Zucca vs Cost Un videogioco realizzato in Construct 3 Che prende appunto ispirazione dal nostro videogioco Ciccio vs Zombies E iniziamo subito a dare i primi pareri a caldo Per quanto riguarda appunto la scheda prodotto Che come vi ho fatto vedere in un video che è uscito settimana scorsa È veramente molto importante lavorare alla scheda prodotto del proprio videogioco A seconda dello store dove noi lo pubblichiamo In questo caso stiamo parlando di Itch.io Luca, Raffaele Caputo ha realizzato questo videogioco utilizzando la versione gratuita di Construct Vediamo subito appunto la scheda prodotto I colori rispecchiano perfettamente quelle che sono i colori utilizzati all'interno del gioco Infatti abbiamo questo sfondo che rispecchia effettivamente lo sfondo utilizzato anche nel gioco Non è niente male, non c'è un video Però ci basta semplicemente cliccare Run Game per iniziare appunto a giocare Il gioco è stato fatto con la versione gratuita di Construct 3 Che purtroppo a dire il vero avendo molti limiti Purtroppo Luca non ha potuto continuare lo sviluppo di questo videogioco Infatti diciamo che è completo in parte no Però io ho comunque provato questo videogioco e voglio comunque dargli dei miei pareri, suggerimenti per migliorarlo Anche se lo utilizza la versione gratuita di Construct Anche se quello che consiglio ad ognuno di voi è che se non avete la possibilità di comprare Construct 3 Utilizzate Construct 2 che ha molti meno limiti Questo è il menu principale Poco animato, questo è anche vero però siamo sempre qui Abbiamo pochi eventi a disposizione con la versione gratuita Ci basta semplicemente cliccare U Non so perché U per partire però va bene E il gioco inizia a dire il vero ecco adesso è partito Ci basta semplicemente cliccare i bottoni WASD che non ci vengono detti all'interno del gioco Questo è un grave errore perché queste informazioni ci vengono date all'interno della scheda prodotto Possiamo mirare muovendo il mouse e cliccando il tasto sinistro del mouse possiamo semplicemente sparare Molto molto importante come vedete non c'è musica, non c'è niente Se non un piccolo file audio che si avvia nel momento in cui muore lo zombie Uno degli errori che ho notato è che ci basta semplicemente sparare allo zombie Mentre appunto vicino alla torre come potete vedere si vede il sangue lì Questo perché non ha lo zeta order Però cosa figa che ha fatto il nostro carissimo Luca è che quando noi siamo appunto proprio vicino alla torre L'opacità del nostro personaggio cambia Questa cosa è veramente veramente figa perché possiamo vedere appunto anche il nostro personaggio Il gioco è veramente molto semplice Anche se comunque ok prende molta ispirazione al gioco ciccio vs zombies Che comunque lascio il link in descrizione E vi ricordo che in descrizione trovate anche la playlist a tutti i video Dove vi ho aggiornato settimana dopo settimana riguardo lo sviluppo di quel gioco dall'alto La cosa figa di questo videogioco è che comunque graficamente non è neanche niente male Credo che le grafiche siano state prese online Una cosa secondo me è un problema di questo videogioco per un top down shooter E' che è veramente molto lento Cioè i comandi sono veramente molto lenti anche questi Perché guardate un po' appena io mi fermo Luca ci sta veramente un po' per riprendere la velocità Quindi potrebbe essere un po' problematico Dato che i nemici in questo caso i fantasmi sono veramente molto veloci Ci fa semplicemente cliccare R per ricaricare la nostra arma Che guardate un po' che figo Lui praticamente ha potuto sfruttare il font per fare appunto quell'effetto Veramente molto figo Qui ho preso un power up Infatti nel gioco ci sono due tipologie di power up Che il nostro Luca ha sviluppato all'interno del suo videogioco Un power up a forma di zucca che ci fa diventare invincibili Mentre un power up a forma di caramella Che spawnano sempre nello stesso punto Poi non so effettivamente se spawnano di nuovo Che praticamente ci da la velocità Questo power up ci mette appunto di andare molto molto più veloce Che potrebbe essere appunto un power up ottimo Una cosa figa che ha anche inserito E che se passiamo sopra queste piattaforme Guardate un po' Prendiamo danno Prendiamo danno però c'è un piccolo errore all'interno del gioco Che è ok I fantasmi in questo caso ci stanno colpendo Però guardate qua in alto a sinistra Non perdiamo vita Non capisco perché succede questa cosa Perché alcune volte effettivamente noi perdiamo Alcune volte invece non perdiamo Questo comunque credo sia normale Per una persona che sta iniziando adesso a creare videogiochi Però i feedback che gli posso dare io E che mi raccomando Bisogna cercare di creare anche dei videogiochi completi Anche sfruttando la versione gratuita Quindi ad esempio il consiglio che posso dare Al Luca Che oggi ci ha mandato il suo videogioco Che a dire il vero l'ha mandato a giugno 2019 Ragazzi sto provando veramente tantissimi giochi in questo periodo Dovete soltanto aspettare per vedere appunto Tutti gli altri videogiochi che mi sono stati mandati nel tempo I consigli che gli posso dare al Luca E di rendere questo videogioco molto più dinamico E figa l'idea del fantasma Perché lui non ha dovuto lavorare alle collisioni Quindi ci può effettivamente molto stare Consiglio di vedere il gioco Ciccio vs Zombies Per poter capire al meglio Proprio come rendere più dinamico questo videogioco Ovviamente mancano tantissime cose Come la possibilità di attivare e disattivare l'audio Appena noi arriviamo al game over Che in questo caso è buggato Ma adesso io ricomincio il videogioco Per farvi vedere appunto che c'è effettivamente un game over Quello che non possiamo fare è tornare indietro Quindi non c'è la possibilità di ricominciare Mi piace anche molto questa schermata introduttiva Che poi alla fine questo qui è un fake loading Perché non credo effettivamente ci sta così tanto a caricare Particella che abbiamo visto anche su Itch.io Il gioco alla fine non è neanche così tanto male Perché per essere forse anche il primo videogioco Realizzato da Luca Non è poi effettivamente così male È un gioco molto lento Che ancora non ha effettivamente molta possibilità di emergere Perché comunque mancano tantissime cose Però ha anche figo il fatto che in alto a destra Abbiamo uno sprite font che ci indica le kill Quindi le uccisioni E in basso a sinistra il numero delle munizioni Che sono delle ossa Che il nostro personaggio può sparare Quindi complimenti tanto Perché appunto lui ha inserito anche questa cosa dello sprite font Possiamo prendere la zucca Guardate qui che figata Ed ecco qui che c'è il power up Cosa anche molto bella E che come avete visto il power up aveva due frame Il gioco non è neanche così tanto male Quando prendiamo il power up lo sfondo cambia Questi sono piccoli dettagli Che effettivamente rendono il gioco più figo E che un programmatore nota Infatti li ho notati subito Mi piace anche il fatto che quando prendiamo danno C'è un piccolo shake Guardate qua Siamo morti Appare questo semplice messaggio E poi schermata di game over Schermata di game over Che secondo me potrebbe migliorare veramente tanto Perché come avete visto qui non ha uno sprite font Qui c'è un semplice messaggio E dopo un po' ricomincia da solo Quindi non dobbiamo schiacciare niente Dopo qualche secondo ti ributta sul menu principale E l'utente a quel punto deve semplicemente ricliccare il tasto U Per iniziare una nuova partita Il consiglio che gli posso dare a Luca Che ha realizzato questo videogioco Con la versione gratuita di Construct 3 E magari di rifarlo con la versione gratuita di Construct 2 Che ha molti meno limiti Per quanto riguarda il numero degli eventi Non dei layer Quello che posso consigliarli quindi è di migliorarlo Di completarlo Di rendere molto più figo Molto più dinamico E magari perché no Una volta ottenuto un ottimo risultato Per dispositivi desk Dopo magari trasformarlo anche per mobile Magari anche qui il fatto della ricarica Che ci sta molto meno tempo Magari c'è un modo anche per velocizzare il tutto Però quello che consiglio Che alla fine secondo me è il problema più grave Sono i movimenti Che sono veramente molto lenti Che però basta veramente poco per migliorarlo Complimenti comunque Perché ragazzi sono veramente contento Che mi mandate questi videogiochi Continuate a sviluppare videogiochi E se credete che questi giochi Non hanno qualità Non vi preoccupate che è normale Perché tutti iniziano così Ed è normale Anche i miei videogiochi all'inizio Erano semplici giochi Con tantissimi problemi A poco a poco si migliora sempre di più E ovviamente più errori facciamo Più impariamo E videogiochi migliori possiamo fare Spero di essere stato quindi abbastanza chiaro Con i feedback Ma come sapete I miei feedback contano poco Perché dobbiamo dare più feedback possibili Quindi ragazzi in descrizione Trovate il link del videogioco Che ho provato oggi E ovviamente date il vostro supporto Allo sviluppatore di oggi Per capire effettivamente Come migliorare il suo videogioco Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse stato Vi invito di lasciare un bel pollice in su Fatemelo sapere con un commento qui sotto E ci vediamo come il giorno Con un nuovo video Ed ora ci vediamo domani Ciao